Ehi, se ora non metti un like a questo video, ti spacco in due, hai capito? I'm a freak out, 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 I'm a freak out. Bella a tutti ragazzi, sono KidCali e oggi sono in un nuovo video, una nuova mod showcase. Bene, come vedete già, anzi la prima cosa che avrete visto è la mia skin. Bene ragazzi, non pensate che io l'abbia scaricata, rubata così, me la sono fatta io, mi sono impegnato, sono riuscito e ci ho messo un bel po' di tempo, infatti per molti video non l'avete vista. Ma ora sono riuscito a scaricarmela, cioè prima a farmela, poi a scaricarmela e quindi a farvela vedere. Bene ragazzi, allora, in questa mod showcase vi faccio vedere la mod, non so se è nuova, ma comunque, questa mod che vi aggiungerà al vostro Minecraft delle armi, delle armi come in Call of Duty e come potrete vedere non c'è solo questa pistola, c'è anche la K-47 e tutte queste armi qua, vedete? Poi vi aggiungerà il kit dei vestiti, il kit medico, il paracadute e così andando. Bene, vedete? Questa qui è la pistola che io preferisco perché si pacca tutto in un colpo, è una bestia diciamo. E ora, poi adesso, aspetta, questo è un po' buggato, no? E vi farò vedere anche le altre armi. Allora, si mira con il tasto del mouse sinistro, è un po' divertente ma a me non mi dà, non mi dà molti problemi. E' anche molto divertente, poi c'è la K-47 come già vi ho detto, noto che prendo i rewards, anzi, i drop. Oh ma che è? In stanotte non ci sono i mob? Oh, eccoli qua. Ah sì, devo ricaricare come prima cosa, è vero, è giusto. Vedete? Ok, poi ricarico io, non è che... non so se... aspettate, provo a finire il colpo e vedere se... Ecco, ricarica anche da solo, benissimo, quindi più che modo di cosa... Qualche volta bugga un po' perché non arriva il colpo ma... ma è normale. Ehm... allora... vado a prendere le altre armi. Bene, allora... ehm... Arrivati qua, avremo questa schermata, no? Con le diverse... con le diverse armi, credo che questo sia un fucile a pompa, adesso lo voglio provare. Ehm... basta prendere l'arma, poi andare a cercare le ammo, cioè... Ehm... le munizioni, questa cosa si chiama W1200, quindi W1200, e mo... Prendo queste, poi l'altro sia... credo che sia un accessorio, comunque... Mi sembra che sia un fucile a pompa, mi sembra, non lo so. Sì, sì, è un fucile a pompa, già da un modo di caricare, si capisce. Bene. Avete visto? Corto... corto raggio, è un'arma di corto raggio. Non mancarmi adesso. E poi un'arma che... Tutti vi sarete chiesti se c'è. Ehm... è questa. L'RPG. Cazzo, l'ho mancato. Ho una mira un po' di merda, ma comunque... Guardate che figa fa il modo di caricare. Ehm... vedete? Ehm... Alla fine... Sì, è il radar, per chi non conoscesse l'RPG, e il bazooka... Vedete? Funziona perfettamente. Fa saltare in aria tutto. Poi ci sono le mitragliate, le mitragliatrici leggere, il coltello. Ehm... Allora, ragazzi, vi dico un dettaglio di questa mod. Quando voi vi scaricherete questa mod, non avrete... Ehm... niente dentro. Cioè, avrete solo... avrete... avrete, scusate. Solo questa mod, e senza... niente dentro. Bene, per... Uh, guardate, guardate, esplosi in aria. Bene, per avere le armi, vi dovete scaricare solo il pacchetto delle armi. Ehm... come se fosse lo tipo delle texture. Voi come vi scaricate le texture? Vi scaricate i pacchetti e le mettete dentro la cartella flans, che vi verrà creata, eh, automaticamente, mentre install... quando installerete la mod. Sempre in, appunto, Minecraft. Ehm... E poi, potete... Potete mettere ancora, oh! Ehm... Il pacchetto... Un attimo, non mi ricordo se fosse che per il giorno. Ok. Potete scaricare il pacchetto dei veicoli. Veicoli da militare. Infatti questa mod è solo per cose da militare, no? Ehm... E così andando via. Bene. Allora. Qua cosa... Ok, qua sto solo per le macchine. Cosa sta roba? Non lo so ancora... Non ho ancora capito quello, me la sono appena scaricata la mod. Allora. Bene. Ehm... Abbiamo questo kit. Che... Ehm... Praticamente... Che cazzo tolgo? Ecco. Abbiamo questo kit, che è praticamente il kit per modificare le armi. Allora, vi faccio vedere. Prendiamo un silenziatore. Adesso avrete già capito. Sil... Silencer. Cioè silenziatore. Ehm... Lo prendiamo, lo mettiamo al posto dei... Della cassa. E poi... Io vorrei prendere anche... Due mirini. Due mirini. Vanno bene. Allora. Metto qua, intanto. Ehm... Prendo l'altro. Mamma mia, mi sto incasinando. Perché voglio metterlo a più di un'arma. Ok. Allora. Andando qua. Noi... Quando mettiamo la nostra arma, per esempio, metto la K47 che ha più di una modifica. Posso mettere il silenziatore e il mirino. Questo qui è una cosa... È una cosa normale, no? Per tipo per i Call of Duty. Ma è una novità per un gioco del genere. Ehm... Anzi, per la mod. Poi prendete l'arma da qua. Vedete che ha messo il silenziatore. Red dot sign. Che sarebbe il punto rosso. In inglese tradotto. Che sarebbe il mirino, no? E poi le munizioni, che è quello normale. Ecco qua. Mettiamo giù. Andiamo. E vedete che ha le modifiche. Noi ora mirino. Sentite che ha il silenziatore. Il mirino ce l'ha. Quindi le modifiche hanno funzionato. Modifichiamo magari qualche altra arma. Che io per ora ho provato a modificare quella. Andiamo con Desert Eagle. Ok, posso mettere anche qua il silenziatore. Sai che figata che va in fuori. Ed ecco. Aspettate che l'ho lanciata, però sbaglio. Bene. Non c'è solo questo mirino. Però... Minchia che figata, ragazzi. Una figata unica. Bene. Non c'è solo questo mirino. C'è anche questo. Che è quello praticamente normale. Delle mitagliatrici pesanti. Poi rimettiamo nella modifica. Mettiamo questo. E vedete? Serve il mirino. Anche qua. E lo mettiamo. L'altro non l'ho preso. Che è l'impugnatura praticamente. Perché sbanda un po' l'arma, diciamo. Ha molto rinculo. E... Vedete? Al mirino. Anche se non serve molto per queste armi. Comunque ci accontentiamone. Poi... Per l'RPG... Per l'RPG... Al mirino mi sembra. Ecco. Perché l'impugnatura nell'RPG non cambia molto. Ok. Avete visto? Non so che cazzo ho ucciso. Ma comunque... Ricarichiamo, ricarichiamo, ricarichiamo. Bastardo che ti teletrasporti ogni secondo. Mamma mia quanto l'odio l'entro. Ah, quindi prima l'ho ucciso lo scheletro. Questo è un altro. Bene morto. Allora... Ehm... Ora vi passo ai kit. Praticamente qua ci sono le... Le tute da marine che sarebbero tipo... Io li chiamo da... Ah sì, marine. Proprio si chiamano così bene. E... Che sarebbero i militari praticamente... Degli americani, no? I marine. Li conoscete già. Ehm... Io metto l'armatura. E vedete già che viene. Ehm... Ecco. Io non so ancora come si craftano. Ehm... Voglio infatti capire. Ma dopo lo... Cerco di fare. Ehm... Aspettate, cos'è sta roba? Minchia che figata! Ok, però non riesco più a toglierla. Merda. Ragazze, aiutatemi che non riesco più. Che cazzo? Ok. Bene. Ehm... Ora ho la mia tuta. Che mi copre la skin. Vabbè, ma è normale comunque. Ehm... Mamma mia che... Allora. Bene, poi qua ci sono ancora player... Queste robe qua non le ho ancora capite. Aspettate. Proviamo a fare una cosa. Prendiamo una leva. Che ne so, magari fa spawnare i giocatori. Non l'ho ancora capita questa. Bene, mettiamo qua. Fatemi capire a cosa serve questa se già conoscete la mod. Perché non l'ho ancora capito. Bene. Provate a mettere il mio... Minchia! Allora. Bene. Poi abbiamo il kit. Il medic kit. Che praticamente quando ci facciamo male... Ehm... Ora non so come farmi male. Ehm... Vabbè, quando ci facciamo male... Lo prendiamo... Vedete? E vengono i cuori. Cioè ci stiamo... Non ci stiamo... Facendo da soli ragazzi, ma... Cioè... Ci stiamo solo curando. Ehm... Poi... Non, il medic kit è già preso. Il paracadute. Vedete? Aprendolo col tasto destro del mouse... Useremo il paracadute. Io ce l'ho già il paracadute nella mod degli elicotteri. Che vi devo far vedere. Però ho deciso di far prima questa. Perché... Mi sembrava più bella, no? Ehm... Comunque... Ehm... E' uguale, diciamo. Ora, per toglierlo di nuovo il tasto destro, credo. Però non voglio toglierlo, perché... Oh, lo tolgo. Beh, non si può togliere. Dovete aspettare. Ah, sì, sì. Bene, poi ste cose non le ho ancora capite. E per ora è tutto qui. Poi i prossimi set me li metterò e magari ve li farò vedere. Bene ragazzi, per ora è tutto. Ehm... Ci becchiamo in un prossimo video. Ehm... Bella ragazzi! Oh... fum... Firi e Firi e